La squadra mobile della Polizia di Stato di Salerno ha eseguito 17 ritardati arresti nei confronti di cittadini extracomunitari responsabili di spaccio continuato di sostanze stupefacenti. I provvedimenti restrittivi sono stati adottati all'esito di approfondite indagini condotte dalla Polizia giudiziaria per contrastare la diffusa e continuativa attività di spaccio di sostanze stupefacenti messa in atto nel territorio cittadino anche mediante attività di videoripresa che hanno consentito di documentare in diretta le cessioni di droga attuate dagli indagati. Le attività di indagine sono iniziate nel mese di febbraio di quest'anno a seguito dei continui arresti in flagranza eseguiti negli ultimi mesi nei confronti di cittadini di nazionalità gambiana sul lungomare Trieste di Salerno e delle ripetute segnalazioni della cittadinanza salernitana poste all'attenzione degli investigatori. Si diceva un supermarket all'aperto a tutte le ore del giorno, si spacciava anche davanti ai bambini, ai neonati. Purtroppo sì nel senso che questa attività di Polizia giudiziaria nasce anche oltre che dal numero di arresti che venivano fatti in flagranza quasi tutti i giorni da tutte le forze di Polizia, quello spacciatore, quel singolo spacciatore, processi per direttissima che poi andavano a caricare i ruoli di udienza dei tribunali monocratici e poi non producevano sostanzialmente effetti ma è stata attuata anche a seguito della segnalazione della cittadinanza che vedeva di fatto ogni giorno passeggiando su lungomare questo tipo di condotte che venivano fatte, come diceva lei, alla presenza di tutti, anche dei minori, dei bambini, dei ragazzi. È stata prima un'attività di intelligenza in relazione all'osservazione, a servizi costanti di osservazioni fatti in particolar modo dalla sezione falchi della squadra mobile. Atteso che ci sono stati tutta una serie di arresti in flagranza effettuata nei mesi scorsi da varie forze di Polizia si è ritenuto opportuno e doveroso fare questo tipo di attività utilizzando appunto lo strumento che è stato riferito dal procuratore in sede di conferenza stampa. Le persone arrestate sono tutte extracomunitari? Sì, confermo, sono tutti extracomunitari, la maggior parte di nazionalità gambiana, qualcuno della Guinea la maggior parte richiedente asilo politico. Non c'entrano nulla, diciamo, gli ambulanti, cosa ben diversa, l'abbiamo detto anche in conferenza stampa, giusto? Assolutamente, sono persone dedite allo spaccio che nulla hanno a che fare con quest'altro fenomeno, assolutamente.